Qualcuno ha chiesto come ascoltare Dhamma Talk e li mettiamo su YouTube Oh Dio, scusate Sorry, I didn't listen Ok, better I didn't say anything So And that's in a very interesting question Because there are different ways how to listen Ed è una domanda interessante perché ci sono dei modi diversi come ascoltarli Perché possiamo prenderli come se fosse una pausa Ma possiamo anche allenarci a unificar la mente nella presenza Può essere una specie di meditazione E mi ricordo in Birmania quando venivano fatti Dhamma Talk duravano circa un'ora e mezza ed erano molto asciutti Ma comunque c'era molto contenuto ed erano interessanti Il modo migliore per ascoltarli quindi era meditare e allo stesso tempo ascoltarli Quindi possiamo stare seduti dritti e stare un po' con il respiro Però allo stesso tempo rimanere aperti all'ascolto E lì era abbastanza facile perché c'era il birmano che veniva tradotto in inglese Quindi ogni volta che parlavano in birmano si poteva seguire il salire e scendere E quando c'era l'inglese si ascoltava Però alcune delle mie meditazioni in cui mi concentravo di più erano proprio durante i Dhamma Talk E ero comunque in grado di assorbire anche qualcosa E ero comunque in grado di assorbire anche qualcosa E in un sutta vengono descritti alcuni punti nei quali si dice come ascoltare in modo appropriato un Dhamma Talk In cui naturalmente viene esposto il vero Dhamma e non qualcosa d'altro It says one doesn't benefit if one is holding the talk in contempt In contempt Yes, that means if you... in contempt, yes If you look down or something Ok, naturalmente non avrai nessun beneficio se ascolti il Dhamma Talk E non gli dai nessuna importanza, cioè lo sminuisce Però anche questo... cioè non abbiamo nessun beneficio anche se stiamo guardando a noi stessi Cioè se sminuiamo noi stessi Cioè per esempio pensiamo, ma io tanto non sono capace di fare queste cose E poi quando si ascolta il Dhamma con una mente dispersa non ci può essere nessun beneficio Invece avremo dei benefici se ascoltiamo con una mente raccolta E se prestiamo attenzione in modo corretto Per esempio se invece di stare seduti dritti ce ne stiamo sdraiati E ascoltiamo un po' così, un po' così, un po' così Mentre ci rilassiamo Questo non è un ascolto corretto Cioè con attenzione E quindi ora che vi ho detto queste cose Partiamo con un Dhamma Talk molto asciutto E riguarda questa terza carrozza Ed è la purificazione mediante superamento del dubbio Quindi abbiamo avuto la purificazione della virtù La purificazione della mente La purificazione della visione E quindi questa è la purificazione dal dubbio E quindi questa è la purificazione dal dubbio So what here usually in the practice When one is able to connect at times with the objects Can happen Is that one will sooner or later discover a few causal links between objects Quindi quando arriviamo in questo punto della pratica In cui riusciamo a connetterci per un po' di tempo all'oggetto Arriviamo, a un certo punto succederà Che si iniziano a scoprire queste connessioni causali tra gli oggetti Qualche volta non diamo nemmeno troppa importanza a queste cose Perché i meditanti spesso credono che una buona meditazione Consista nel stare solo con un oggetto Però quando la consapevolezza è continua per un po' di tempo Iniziamo a renderci conto che prima c'è la consapevolezza di un oggetto E poi arriva un altro oggetto Ed è importante che la mente si accorga di questo Perché soltanto così riusciamo a vedere delle connessioni Per esempio si potrebbe sperimentare un forte dolore E come risultato di questo si può osservare il sorgere della rabbia nella mente Quindi possiamo vedere il dolore come causa e la rabbia come effetto Oppure si può osservare che sorge un dolore E salire e scendere dell'addome diventa più forzato Oppure un meditante mi ha raccontato che quando un pensiero è arrivato nella mente Il salire e scendere dell'addome è cambiato Oppure può esserci la comprensione che il camminare avviene solo dopo che c'è stata un'intenzione di farlo E riguardo a questa intenzione torno più tardi un po' Nel corso della giornata tantissime connessioni causali come queste possono venire scoperte Se non sta succedendo da solo non cercate di forzare la cosa perché non è una cosa che si vede sempre Ci sono delle fasi della pratica in cui questo è più evidente Però a questo punto il meditante quando si trova in questa fase riesce a cogliere, a vedere l'oggetto nel momento in cui sta sorgendo E vede anche la sua durata, cioè il momento in cui è lì presente, insomma sorge ed è presente Però non lo vede proprio disintegrarsi perché piuttosto viene sostituito da un altro oggetto che sorge Quindi sono evidenti l'inizio e la parte mediana E alcune volte c'è più di una di queste connessioni che vengono sperimentate Quindi magari qualcuno mi dice che c'è stato un suono e ha notato l'udire Poi è sorta un'immagine di un uccello E che poi sono sorti dei ricordi che venivano dal passato che erano connessi con questo uccello E poi che l'umore è cambiato Quindi c'è una causa e poi un risultato Questo può essere diviso in quattro categorie fondamentali Un oggetto fisico che è la causa e un altro oggetto fisico è il risultato Per esempio se fa caldo il corpo inizia a sudare Oppure se fa freddo, se qualcuno apre la finestra e arriva un po' di freddo Allora il corpo inizia a tremare o a rabbrividire Oppure quando i meditanti diventano abbastanza sensibili Riescono anche a percepire che quando c'è un suono Sentono l'orecchio, il timpano che vibra Sentono un contatto proprio Un altro caso è quando c'è come causa un oggetto fisico e il risultato è un oggetto mentale Per esempio sorge un dolore e poi arriva l'avversione Il dolore cresce e allora sorge un'intenzione mentale di cambiare posizione Oppure può esserci come causa un oggetto mentale e come risultato un oggetto fisico Qual'esempio classico è l'intenzione? L'intenzione è di camminare e poi parte il passo Oppure sorge la rabbia nella mente Il corpo reagisce, si irrigidisce, arriva del calore E quindi questa è una connessione tra i fenomeni mentali e quelli fisici E l'altra opzione è un oggetto mentale che ha come risultato un altro oggetto mentale Quindi c'è un fattone mentale che si chiama attenzione o focalizzazione E' un fattore mentale che rivolge la mente verso l'oggetto dominante Magari in camera vostra c'è un suono Allora c'è questo volgersi della mente e poi sorge l'udire Ma se questo volgersi della mente verso il suono non avviene perché in quel momento siamo magari molto concentrati Allora non sorge nemmeno l'udire Ci sono degli esempi in cui il Buddha sta meditando sotto un albero ed è in qualche assorbimento profondo E poi 500 carrozze li passano vicino facendo un sacco di baccano Poi quando esce dalla meditazione passa un altro monaco e gli chiede Hai mai sentito queste 500 carrozze? Lui dice no Perché ero troppo assorbito nella mia concentrazione Quindi non c'era questa focalizzazione della mente E la relazione di causa-effetto tra la mente e la materia avviene continuamente Per esempio vediamo la statua del Buddha Significa che deve esserci una statua del Buddha Se non c'è un oggetto fisico Insomma vediamo un oggetto fisico E poi ci deve essere l'occhio Oppure quella che si chiama la sensibilità dell'occhio E quando questo oggetto visivo, cioè la luce, colpisce l'occhio Allora sorge la coscienza visiva Quindi l'oggetto visibile e l'occhio sono la causa e il risultato è la coscienza visiva La stessa cosa vale per il suono È necessario che ci sia un oggetto udibile, cioè un suono E la sensibilità dell'orecchio Poi naturalmente deve esserci questo volgersi della mente E poi come effetto sorge la coscienza uditiva Quindi i processi visivi o uditivi non avvengono senza delle cause Quindi deve esserci una causa, deve esserci un oggetto E poi possono avere il luogo E' un altro, e' un'altra cosa molto importante Un'altra relazione di causa e effetto Potrebbe essere scoperto dai meditatori E questa è la connessione tra sentire e chiedere Un'altra relazione di causa e effetto molto importante Che può essere scoperta dai meditanti E' una sensazione E collegata a questa sensazione Sorge la Brahma E quando parlo di sensazione intendo questa parola in Pali che è Vedana Ed è un po' difficile perché in realtà noi non abbiamo una parola adatta nella nostra lingua Quindi è meglio dire direttamente Vedana Vedana significa qualcosa che è sentito E' qualcosa che viene sentito come piacevole, come spiacevole o come né piacevole né spiacevole Quindi qualunque tipo di sensazione ci sia Anche qualunque tipo di sensazione fisica ci sia Ha un certo sapore Ha un sapore piacevole, spiacevole o nessuno dei due E at times We can experience this in sitting meditation At times the sitting can be very pleasant Sometimes it is an unpleasant hour Or parts of it And sometimes in between E possiamo vederlo nella nostra seduta Alcuna volte la seduta è piacevole Altre volte è spiacevole E altre volte ancora è una via di mezzo Vedana sorge ogni volta che c'è un contatto con un oggetto Ogni volta che c'è questo fattore mentale del contatto che contatta un oggetto sorge il Vedana Quindi in assenza di consapevolezza Se sperimentiamo una sensazione piacevole Ne vogliamo sempre di più Ed è qui che sorge la brama Quindi per esempio quando sorge una sensazione mentale molto piacevole Spesso i meditanti pensano Ah ecco ci siamo Perché è come se si pensa che la felicità e la pace si accumulano ogni volta che c'è qualcosa di piacevole E quindi credono che accumulare i Vedana piacevoli e invece evitare quelli spiacevoli sia la via per la felicità Ma il problema è che vedano è qualcosa di incerto e che cambia E non può essere controllato Alcune volte magari parzialmente però non davvero E secondo il Buddha la libertà e la felicità più elevata si possono trovare quando noi ci rapportiamo in modo saggio con questi Vedana ed equilibrato Quindi spesso quando c'è un oggetto piacevole sorge la brama Oppure se non c'è consapevolezza e sorge qualcosa di sgradevole Allora sorge la brama di essere liberi da quella cosa Oppure possiamo anche avere un altro tipo di brama Cioè per un altro oggetto piacevole che possa rimpiazzare quell'altra sensazione Per esempio se in meditazione affrontiamo delle sensazioni spiacevoli Allora preferiamo immaginare qualcosa di piacevole che può succedere in futuro Oppure se succede a casa magari accendiamo la televisione o mangiamo un po' di cioccolato Perché anche sulla base delle sensazioni spiacevoli può sorgere la brama Mentre le sensazioni neutrali né piacevoli né spiacevoli hanno una natura più pacifica E anche questo può diventare un oggetto di brama Ma solo nelle fasi più avanzate della pratica Mentre prima conducono di più alla noia o all'illusione, all'ignoranza Quindi se non siamo consapevoli può sorgere questa brama riguardo delle sensazioni Quindi in Birmania dicono che nei Dukka Vedana, in queste sensazioni spiacevoli L'avversione è latente, dimora l'avversione E mentre nelle sensazioni piacevole dimora il desiderio, la brama Nei Vedane neutrali invece dimora l'ignoranza Ma non significa che automaticamente queste cose debbano sempre sorgere Perché non sono la stessa cosa Quindi c'è questo famoso discorso del Buddha sulla freccia E qui dice qualcosa sull'intraind o un mindful person Non lo leggere, è un po' complicato Ma in generale Un'intraind o un mindful person è colpita da un dart Allora non lo leggo tutto Però dice che una persona che non è consapevole, che non è addestrata Viene colpita da una freccia E allora seguono delle sensazioni dolorose Della pena, del lamento, della sofferenza E questa reazione seguente è come essere colpiti da una seconda freccia E questa prima freccia è una sensazione spiacevole fisica Mentre la seconda freccia è l'avversione che sorge riguardo a questa sensazione spiacevole Ed è quindi mentale E dice quindi questa persona che non è consapevole Non vede nessun'altra via di fuga Che non andare a cercare qualcosa di piacevole Mentre una persona che è istruita, addestrata e consapevole Quando viene in contatto con una sensazione spiacevole Non si dispera e non si lamenta e non si batte il petto E sente solo una sensazione, cioè quella fisica e non quella mentale Come una persona che quando viene colpita da una freccia Subito dopo non viene colpita da una seconda freccia Quindi viene colpita solo da le sensazioni dolorose fisiche ma non da quelle mentali Questo non può essere fatto solo tramite una forza di volontà Ma serve che qua la consapevolezza ci venga d'aiuto La prima cosa importante è vedere che c'è una differenza tra un vedana che è spiacevole e dolorosa E la reazione che c'è a questo vedana Ma se si è sviluppata abbastanza equanimità ci possono essere dei vedana sia piacevoli che spiacevoli ma nessuna reazione E quindi solo una freccia E anche se c'è una sensazione piacevole non avviene questo attaccamento E di solito cercare di afferrarla comunque la distrugge E questa mente che è bilanciata riesce a rimanere vigile anche se ci sono dei vedana né piacevoli né spiacevoli Ma se l'equanimità di un meditante non si è ancora sviluppata Però ci sono delle sensazioni spiacevoli Allora che cos'è che si può fare? Allora certamente possiamo cambiare posizione continuamente Ma prima di questo Alcuni magari la nominano, la etichettano ma con l'intenzione di liberarsene La etichetto via È una manifestazione di una leggera avversione Quindi non la stiamo notando con la vera intenzione di osservarne la natura Ma lo stiamo facendo con un programma di liberarcene Oppure appunto possiamo osservarla e imparare la sua vera natura Quindi tornando alla causa e all'effetto Ci può essere una sensazione piacevole e poi sorge la brama Una sensazione spiacevole e sorge un po' di avversione Oppure c'è dell'equanimità Vedere queste cose in questo modo rimuove la visione che le cose avvengano in modo casuale Oppure rimuove la visione che ci sia un essere supremo che le sta facendo accadere Perché vediamo che i fenomeni sono collegati da causa e effetto Per questo si chiama la purificazione del superamento del dubbio Ma io sono dubbioso su questo Perché in realtà qui in questa fase non c'è un superamento permanente del dubbio riguardo al Dhamma o alla pratica Perché può comunque ancora sorgere del dubbio scettico Ci possiamo chiedere ma sto facendo bene Questa qua sarà la strada giusta eccetera E nei testi viene detto che Questo dubbio scettico riguardo al buddha E nei testi viene detto che questo dubbio scettico Quindi riguardo al buddha E nei testi viene detto che questo dubbio scettico Quindi riguardo al buddha Quindi riguardo al dhamma o a se stessi Viene superato soltanto nel momento che viene chiamato dell'entrata della corrente Vuol dire che l'insight è abbastanza profondo da far sì che le tre caratteristiche dell'esistenza vengano comprese in modo completo E viene sperimentato per la prima volta la cessazione di tutte le formazioni e cioè il nibbana Questa qua è l'entrata nella corrente e sottapanna è il nome che si dà a questa persona Non significa che il sentiero sia giunto alla fine perché c'è ancora del lavoro da fare nello sradicamento degli inquinanti Però a quel punto si ha la conoscenza del giusto sentiero Ed è anche possibile continuare a praticare senza un insegnante Sottapanna si riferisce all'entrare in questa corrente che conduce poi all'oceano e cioè alla eliminazione completa degli inquinanti La libertà Però nel Visuddhi Magga si dice che questo vedere la causa e l'effetto è la purificazione del superamento del dubbio Quindi possiamo dire che può servire a superare qualche dubbio e a guadagnare un po' di fiducia e di fede E comunque questa esperienza che si fa qui, cioè di essere in contatto con l'oggetto, non c'è questo senso dell'io Oppure vediamo che non c'è un essere che esiste Ma che magari sorge un'intenzione che poi è la causa di qualcos'altro che avviene E può essere qualcosa di nuovo che non abbiamo mai sperimentato prima E qui possiamo anche sperimentare dello spazio, cioè avere una scelta nel momento in cui sorge un'intenzione Possiamo decidere se seguirla oppure se lasciare che svanicca Quindi è qualcosa che può dare molta ispirazione E' per questo che chi ha fatto il Visuddhi Magga o forse anche prima ha creato questo termine che si chiama il Ciula Sottapanna Che vuol dire un Sottapanna minore E quindi questo Sottapanna minore Sottapanna minore è una persona che avendo superato il dubbio in questo senso Riesce ad avere sempre una fede, un'ispirazione nel continuare la pratica Però se invece uno non è continuo nella pratica questa fede e questa fiducia possono svanire Un'altra cosa importante da dire è che quando si dice che si sperimenta questa causa Un oggetto come appunto che c'è un oggetto e poi un altro che sorge Cioè non è una cosa che tutti devono sperimentare in questo modo Ci possono essere diversi concatenamenti di esperienza nella nostra pratica Però qualche volta vediamo che succede questo, poi questo, poi questo, poi questo Che uno sta conducendo all'altro Allora adesso guardiamo un po' più da vicino questo aspetto dell'intenzione Perché è un'area di causa e effetto che è particolarmente importante L'intenzione può essere un oggetto molto sottile E non sempre è evidente Però è il momento che precede un'azione Quindi noi sappiamo che appena prima di un'azione questa cosa succederà In quel momento c'è questo aspetto di volontà nella mente Un'energia che si raccoglie Che inizia, fa partire questo fare Alcune volte è un pensiero specifico E poi segue l'azione Alcune volte è un impulso senza parole Per esempio Quando vi svegliate e siete ancora sdraiati a letto Riuscite a cogliere l'intenzione di alzarvi O magari Prima di alzarsi servono diverse intenzioni di farlo O magari non sorge nessuna intenzione di alzarsi Oppure sorge l'intenzione di non alzarsi Poi se però sentite la campana Quando non c'è un'intenzione di alzarmi Oppure non è abbastanza forte C'è un'immagine che di solito mi fa alzare È immaginare il caffè Immaginare il caffè Oppure solo immaginare l'odore del caffè Però se in quel momento non c'è del buon caffè Allora è molto difficile alzarsi Però per ognuno può essere diverso Quindi domani mattina cercate di scoprire come funziona la vostra intenzione di alzarvi E la consapevolezza dell'intenzione è importante Perché il Buddha ci ha insegnato che questo è il seme del karmico Il seme karmico Perché l'intenzione avviene prima di compiere un'azione ma anche nel mentre E questo può portare a diversi risultati Certo durante un'azione noi non è che osserviamo continuamente l'intenzione Però poi può esserci un'intenzione di fermare quell'azione Quindi è anche importante L'intenzione non è qualcosa che noi dovremmo in nostra pratica meditazione Osservare come obiettivo meditazione Quindi nella nostra meditazione non osserviamo l'intenzione come oggetto primario Per esempio se durante la meditazione camminata c'è un oggetto primario No, l'intenzione è l'oggetto primario durante la meditazione camminata Quindi c'è l'intenzione di sollevare il piede E allora l'intenzione poi di muovere sorge Viene osservata Scompare Sorge di nuovo E quello che succede è che rimaneteli bloccati Quindi non è questo che dobbiamo fare Rilassatevi, continuate a camminare Ma a volte può essere ovviamente E qualche volta sarà molto evidente E questo è abbastanza Soprattutto quando abbiamo questa possibilità di creare un po' di spazio intorno a questa intenzione E' importante soprattutto quando riusciamo a creare un po' di spazio intorno a questa intenzione Così riusciamo a renderci conto se è una cosa utile seguirla oppure no Specialmente nella vita quotidiana Per esempio c'è l'intenzione di afferrare il cioccolato Non c'è niente di male in questo Però se io avevo deciso in precedenza di mangiare meno cioccolato E quel giorno ne ho già mangiato abbastanza Se questo impulso passa inosservato Il cioccolato sarà già preso in mano e sarà stato messo in bocca Mentre se riusciamo a rendercene conto Allora abbiamo una scelta e possiamo non seguire questo impulso Oppure far convergere questo impulso verso una mela Però se non c'è consapevolezza dell'intenzione Di solito le cose succedono in modo automatico Quindi questa urgenza, questo volere, questo impulso possono non venire notati Alcune volte sentiamo un'urgenza molto forte Alcune volte anche i meditanti usano proprio questa parola Questa spinta, questa forte spinta Questa urgenza, un bisogno di fare qualcosa Però è solo questo, cioè possiamo anche solo notare che c'è questo bisogno C'è questo forte desiderio di passare all'azione e di completare quell'azione C'era una volta un meditante che aveva questo bisogno Sentiva questo bisogno di schioccare le dita Fare rumore con le dita Io personalmente qualcosa che non riesco a fare perché è un suono che mi disturba Non so se qualcuno vuole provare a farlo Questo succedeva durante la meditazione Succedeva spesso e questa persona continuava a schioccare le dita E dopo un po' di giorni di pratica Quando la consapevolezza si era rafforzata E' stato chiesto di osservare l'intenzione E improvvisamente in quella seduta era molto calmo in maniera particolare, inusuale E nel colloquio seguente questa persona è arrivata ed era molto emozionata e mi ha detto Sono riuscito a osservare l'intenzione di fare questo gesto con le mani e quando l'ho osservata se n'è andata Quindi questa consapevolezza delle intenzioni ci può dare uno spazio di scelta Quindi magari decidiamo di seguirla oppure di non seguirla Ma almeno non è completamente automatico Possiamo applicare questa cosa quando siamo seduti all'intenzione di muoverci Anche se si tratta di movimenti molto piccoli Però anche questi non avvengono se non c'è una qualche intenzione Ci sono dei movimenti che possono avvenire senza un'intenzione Alcune volte è un impulso molto chiaro, altre volte c'è un po' di spazio prima dell'azione E la cosa importante è qui quando il Buddha dice che il kamma è l'intenzione Perché l'intenzione può essere connessa con degli stati mentali diversi Potremmo volere fare un'azione per via dell'avidità Oppure potremmo volere fare qualcosa per via della generosità Potremmo essere motivati dalla rabbia O dalla compassione Oppure potrebbe essere qualcosa che sorge dall'ignoranza Quindi è anche importante da quale stato mentale sta sorgendo Quindi è per questo che può essere utile, di importanza ogni tanto Notare anche questi stati mentali più sottili dell'intenzione E non preoccupatevi se ve ne accorgete dopo Cioè una volta che l'azione è già stata fatta E vi dite dovevo stare attenti dall'intenzione Spesso c'è questa istruzione che dice prima di muovere un braccio Per esempio state facendo meditazione camminata e c'è un prurito Potete solo notare questo prurito E lasciarlo da parte Oppure se c'è l'intenzione di grattarsi Allora possiamo notare Intenzione di muovere o di grattare E poi notare muovere muovere Grattare grattare Ma poi ciò che succede di solito è che ciò che succede di solito è che ce ne accorgiamo quando la mano è già lì che gratta E ricominciamo da capo Prurito prurito Intenzione di grattarsi Quindi spesso semplicemente magari è qualcosa che perdiamo Ed è molto normale Però in alcuni momenti in cui siamo assorbiti nell'osservazione un istante dopo l'altro può essere molto evidente questa cosa In questa fase della pratica la consapevolezza è già abbastanza svelta da riuscire a cogliere il sorgere di un oggetto Prima non riesce a vederlo È troppo lenta Per esempio quando sorge un pensiero Non si riesce a vedere quando sorge Ma ce ne si accorge solo dopo un po' quando è già lì Per esempio stiamo seguendo salire e scendere dell'addome A un certo punto ci ritroviamo che stiamo pensando Ma non siamo stati in grado di vedere quando è iniziato Ma con un po' di pazienza e ancora un po' di pratica A un certo punto la mente diventerà abbastanza veloce e la consapevolezza abbastanza continua Da poter cogliere il momento in cui sorge un pensiero oppure un'immagine Quindi siamo in grado di vedere quando sorge un oggetto e anche le diverse connessioni Qualcosa che in questa fase molto spesso i meditanti raccontano E che c'è magari un dolore al ginocchio sinistro Nel momento in cui vanno lì con la loro attenzione Il dolore sorge sul ginocchio destro E quando spostano l'attenzione sul ginocchio destro il dolore risbuca da un'altra parte Quindi riescono sempre a vedere questi momenti del sorgere Quindi questo a volte succede, è possibile Per oggi è abbastanza, questa era la purificazione del dubbio Almeno fino a un certo punto E vedendo queste cause ed effetto il meditante è sulla strada giusta Sediamoci per mezzo minuto in silenzio